www.mesmerism.info Ok, a terra! Gesù, vieni qui! E sbrigati! Allora, razza di imbecilli, chi siete? Che cazzo volete da me? Ehi, calmati bella, noi... Guarda, noi non ci vogliamo fregare, anzi, vogliamo lavorare per te! Che? Sì! Abbiamo visto che hai fatto con quella testa dei gazzi lì nel bar! Sei meravigliosa! Allora siete stati voi coi due scemoniti di fronte al bar? E mo' volete lavorare per me? Sì, esattamente! Pensa un po', no? Tu come capo! Oppure come capa! Non dovresti più muovere un dito! Solo, sai, quando ti ti fai fuori i soldi mentre fai shopping! Esatto, quello che dice lui! Mmm... Beh, ok! Volete lavorare per me? Va bene! Però vi dico una cosa... Se vedo che voi stronzi provate a fregarmi! Vi rompo il cazzo in una maniera che anche i vostri nipoti usciranno femmine! Capito? Sì, signora! Perfetto! Allora, ciao! Ehi, ciao! Allora! Eriong! Saluto! Eriong! Allora! Eriong! 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 Il正o! Grazie.